ciao mi chiamo luis che cosa ci faccio io sulla terra quindi oggi benvenuti a un nuovo luizolo si vanno noi con le mesi loigni quindi ho io ho io ho allora io sono ok non parlare più hai dei problemi voi avete dei problemi ragazze che posso aiutarvi a risolvere problemi di erezione erezione a quanto pare mette soggezione gli uomini beh puoi metterli al loro agio non so spegnete la luce succhiate il pisello i suoi ragazzi hanno tutti problemi direzione qual è una cosa che ti appassiona è fatta ce l'hai prendi le occasioni devi succhiare dei piselli hai dei problemi che possa risolversi è morto una mia amica ecco succhiare piselli ciao è un problema in amore sì 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 problemi avete una legge l'aritmia sì 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 aritmia ma lo sai che per non avere assolutamente problemi fisici e mai andare dal dottore perché non te li trovi se non vai alla dottore tu dai non vai alla dottore ciao